Che sono Pazzox e come ho promesso eccovi il video della stella segreta Anzi delle due stelle segrete perché molte persone mi hanno chiesto dove si trovasse la stella numero 1 segreta Della settimana numero 1 Ma iniziamo prima dalla seconda settimana Sappiamo tutti che per sbloccare la stella segreta bisogna aver completato tutte le sfide di quella determinata settimana Se non l'avete fatto ovviamente non vi comparirà Se avete completato tutte le sfide allora guardate questo video Non vi basterà che andare nella Borgo Bislacco 2.0 perché la traduzione ormai qui è qualcosa di indescrivibile Andiamo nella zona dei campi da golf sopra al tettuccio del country club Una volta andate lì improvvisamente apparirà la vostra cara e bellissima stella segreta E ci sarà qualcuno che sicuramente vi sparerà Ma non solo eccovi qui la posizione della stella segreta numero 1 Cioè dove si trova quella figura a forma di ombrello Che dire ragazzi questa era la stella segreta di questa seconda settimana Ripeto di nuovo per chi non ha completato tutte le sfide ovviamente non troverà queste stelle segrete Per chi l'ha fatto invece le troverà tranquillamente Spero che questo video vi sia stato molto d'aiuto Noi come sempre ci vediamo con dolcissimo e carnissimo Noi come sempre ci vediamo con dolcissimo e Noi come sempre ci vediamo con dolcissimo e Noi come sempre ci vediamo con dolcissimo e